eccomi qui non potevo non mancare anch'io nel fare l'imbocca al lupo e chiaramente gli auguri alla nuova associazione nico olimpionici sono giuseppe giannini vi mando un grandissimo in bocca al lupo poi magari ci vediamo anche in seguito durante l'anno un'iniziativa importante e benefica e quindi sarò anch'io con voi ciao